Un'abitudine di 10 secondi che non c'entra niente con la pulizia della casa, ma che comunque volevo dirti perché ha migliorato tantissimo il modo di svegliarmi e anche il corso della giornata, è quello di farmi un pensiero positivo appena mi sveglio, un pensiero di gratitudine. Grazie per questo nuovo giorno, potrò imparare cose nuove, potrò crescere, potrò realizzare tutti i miei desideri. Questo semplice pensiero di gratitudine può cambiare l'intera giornata perché influirà in modo positivo il modo in cui ti senti, ti comporti e parli con gli altri. Alla maggior parte di noi non piace fare le pulizie, ma a tutti piace vivere in una casa pulita. Fortunatamente si è scoperto che aggiungere delle piccole abitudini di pulizia tutti i giorni possono facilitare il lavoro di gestione della casa. Quindi qual è il segreto per mantenere la casa sempre pulita e ordinata? Prendere in considerazione proprio l'idea di aggiungere queste piccole abitudini. Capita sempre che nel momento in cui finiamo di pulire il bagno, arriva sempre qualcuno per lavarsi i denti e gli altri membri della famiglia lasciano sempre segni rivelatori della loro attività di pulizia. Il mio consiglio per rimuovere il dentifricio è quello di pulirlo immediatamente perché più a lungo rimane più sarà difficile toglierlo. Una cosa che faccio ogni tanto quando mi lavo le mani, la passo anche sulla superficie del lavandino del bagno, ovviamente se non è tanto sporco. E in questo modo la pulizia si mantiene più a lungo. Ogni volta che ci laviamo le mani lasciamo inevitabilmente delle gocce di acqua sul rubinetto, sulle piastrelle e anche sul piano del bagno. Quindi la cosa migliore è asciugarle immediatamente. Prima di scaricare l'acqua ricordiamoci di abbassare il coperchio del WC, questo è molto importante dal punto di vista igienico per evitare di spargere goccioline d'acqua ovunque. Ricordiamoci dopo aver fatto la doccia di aprire la porta o la tenda in modo che si asciughi più velocemente. Mi rendo conto che questa è un'abitudine di qualche secondo in più rispetto ai 10 che vi ho consigliato, però è assolutamente indispensabile dopo la doccia passare il tergivetro nelle ante perché così si manterrà vita esplendente più a lungo possibile. Vi consiglio questa tipologia di gancio perché è molto comodo da infilare nell'anta della doccia senza bisogno di dover usare adesivi o trapano. Ci puoi appendere il tergivetro o una spazzola che vi può servire all'istante per togliere delle macchie veloci. Pochi secondi dedicali alla pulizia dei flaconi dei prodotti di bellezza che utilizzi perché questo aiuterà a evitare la formazione di batteri. Anche se devi mettere a lavare un asciugamano, assicurati di lasciarlo asciugare all'aria prima di metterlo nel cestino delle cose da lavare, altrimenti si creerà un odore di umido che poi sarà difficile da togliere. Usa sempre delle griglie paraschizzi per evitare di avere macchie ovunque oppure anche un semplice coperchio. Mentre cucini ricordate di togliere le macchie appena si formano, così avremo sempre un ambiente igienico per cucinare ed eviteremo che le macchie diventino delle incrostazioni molto difficili da togliere. I contenitori dei cibi che utilizziamo mentre cuciniamo si sporcano tantissimo, soprattutto quelli dei condimenti, per cui prima di rimetterli nel pensile ricordiamoci di passare un panno umido. Sono tutte pulizie velocissime che se fatte all'istante ci portano via pochi secondi e possono essere fatte semplicemente con acqua. Anche gli attrezzi che utilizziamo in cucina possono diventare un vero incubo se non li laviamo subito, ma diventa un gioco da ragazzi. Se ci ricordiamo di farlo subito dopo averli utilizzati basta semplicemente risciacquarli con acqua. E' consigliato cambiare il telo da cucina pulito tutti i giorni perché quando tocchiamo i cibi e ce li risciacquiamo le mani magari non utilizziamo il sapone. Non mettiamo però il telo umido direttamente nel cestino delle cose da lavare ma apprendiamolo, lasciamolo ad asciugare in un angolo della cucina. Prima di chiudere il sacchetto della spazzatura e portarlo fuori ricordiamoci di aprire il frigorifero e guardare se c'è qualcosa che deve essere buttato. Pochi secondi ci eviteranno di coltivare la muffa nel nostro frigorifero. Mettiamo le spugne e i panni della cucina in lavastoviglie oppure se non le abbiamo li spruzziamo con dell'aceto dopo averli risciacquati. In entrambi i casi li dovremmo disinfettare una volta alla settimana facendoli bollire oppure mettendoli in una soluzione di acqua e candeggina. Pochi secondi mi bastano quando finisco di lavorare per rimettere in ordine la mia postazione di lavoro. A questo proposito prendo il contenitore trasparente per riporre tutto in modo veloce. Ti tieni a portata di mano un panno in microfibra per togliere velocemente la polvere dal computer. Non ti dirò adesso quanto sia importante togliere le scarpe quando rientriamo a casa perché lo sai già benissimo ma ti voglio far vedere questo mobiletto Ikea. Un piccolo scaffale che è davvero comodo a questo proposito e ci sta benissimo in un angolo a fianco della lavatrice quindi in pochissimo spazio. Sono sicura che la maggior parte di queste abitudini da dieci secondi già le fai però comunque ero felice di raccontarti quali sono le mie. Scrivimi nei commenti invece quali sono le tue sono molto curiosa di leggerli e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio.